Dizer nella notte di Raizo Radio con Davide Santirocchi al microfono, c'è Stefano Viglia alla parte tecnica e con noi questa notte sui 103.3 di Raizo Radio viaggia Loredana Errore. Buonanotte Davide, buonanotte. Bene bene grazie, sto benissimo. Ah finalmente esce un intero album, è uscito da qualche settimana però insomma finalmente non un EP, una cosa di quelle che normalmente si fanno in corso d'opera mentre magari ci sono altri progetti in corso ma ti sei potuta dedicare a questo lavoro. Sì è nato questo progetto che sicuramente include molti nomi e sicuramente brani, sono dei pezzi che naturalmente vedono molte storie di quotidianità in cui il mondo femminile è descritto diciamo da un cantautore così diciamo possa ripetersi e possa immedesimarsi in molte ragazze. Ancora diciamo più sorprendente come comunque Biancio Antonacci abbia potuto vedere e interpretare diciamo al meglio delle sue dei suoi intuiti la mia personalità che magari non è sempre facile ma no perché la mia ma quando non si conosce diciamo non è sempre facile individuare le però lui è stato devo dire mi ha fatto sentire molto a mio agio. Quindi le cose che hai cantato in questo disco e che ha scritto Antonacci non sempre da solo qualche volta hanno partecipato o altri altre volte hai partecipato tu. Sì Milano Ormanni che diciamo ha collaborato con Viaggio in Muro e in Madre che non ci sei, Pina di Red DJ che saluto estremamente con affetto e che ha scritto voglio solo te ed è un pezzo particolare e poi diciamo scusa se io vado così nella narrazione però c'è una punta di diamante che è Loredana Bertè che sicuramente ha dato la vulnerabilità e la virilità di quello che era diciamo il il canto rock and roll comunque di una volta e che è stato e si imprime comunque nella cultura secondo me italiana. Non raccontare tutto subito perché abbiamo un bel po' di chilometri da percorrere insieme e cominciamo proprio con Il Muro che è stato il primo estratto da questo album. L'album lo ricordiamo ha un titolo assolutamente particolare perché è l'errore. Questa era Il Muro su Raizo Radio con Diesel, più tardi anche le notizie di Infomobilità grazie agli amici del CIS e viaggiare informati ma intanto percorriamo la strada anche breve fino adesso ma non troppo breve perché insomma è cominciato parecchi anni fa di Loredana Errore. Quando hai cominciato? Beh guarda la la musica è stata sempre qualcosa che mi ha comunque cambiato il punto di vista delle cose. È stato sempre qualcosa che ha dato armonia a in ogni in più momenti e in più umori comunque della giornata del anche della crescita della mia crescita che comunque ha centrato sempre di più questo questa linfa che per me è diventata comunque la la cosa di cui più mi fido quella che la musica ma proprio la musica in sé per sé la musica quella che vuole dire suono quella che vuole dire canto è quello che vuole dire comunque espressione. Diciamo che non è stato facile all'inizio e non è facile per nessuno penso per chiunque sia si affaccia a fare o si spiega comunque negli obiettivi comunque di grande ambizione no? Quelli che possono essere anche l'avvocatura quelli che possono essere e qualsiasi comunque ambizione è capitato di trovarmi comunque nella notte di trovarmi anche nel giorno in in domande che purtroppo nessuno poteva poteva darmi risposte sicuramente ho cercato e ho trovato grandi risposte grande rifugio ora io non non so guarda non ti posso dire se è stato una manipolazione del pensiero o comunque qualcosa che diventa utopia però la fede mi ha dato un grande una grande risposta comunque mi ha dato veramente dei grandi segnali perché io potessi continuare su questo fronte su questa strada quindi io devo molto comunque a questo a questo emisfero che si unisce comunque alla musica qualcosa che comunque è molto rock e roll per me perché comunque viaggia viaggia molto molto con i miei giorni e molto comunque con quello che il mio concetto di di moderno di giovinezza e di creatività di innovazione ok però diciamo che resta pure la semplicità in quello che per me la fede una spiritualità evidentemente importante nasci qualche anno fa a bucarest esatto adesso dove vivi adesso guarda vivo vicino milano e quindi diciamo che da bucarest ad agrigento che mi ha diciamo ospitato e mi ha accolto per fin da quando ero bambina perché non so se tutti sanno però sebbene il dono della vita rimanga il più prezioso diciamo il più sublime per me è quello che è stato comunque l'apporto dell'adozione la creazione dell'adozione è qualcosa che mi ha dato sicuramente un grande punto di vista a quello che è il pensiero scontato delle cose da lì che mi parte anche la fede e da lì che mi è partito comunque un grande senso di visione verso gli altri anche che a volte non è facile esprimere insomma hai una testimonianza appunto che anche la tua vita e come sono andate le cose fin qui rispetto agli altri che ti hanno evidentemente accompagnato che ti hanno dato modo di vivere al meglio assolutamente coltivare sogni per esempio a questo punto mi ascolterei che bel sogno che ho fatto perché grazie almeno come titolo resta questo qui resta veramente un pezzo che mi piace molto senti che bel sogno che ho fatto questa era che bel sogno che ho fatto due parole su questa canzone sempre scritta da guarda sì assolutamente scritta interamente da lui sicuramente in questo questo secondo me è un capolavoro è un capolavoro di pezzo perché comunque include molti generi e include un'emotività che è inspiegabile diciamo solo entrando dentro questo in questo mondo poi puoi capire e solo cantando posso spiegarlo agli altri perché quando io la sento devo dire la verità cioè mi vergogna dirlo prima emoziono soprattutto quando c'è quel pezzo non ho visto mai in mia madre piangere quello è molto toccante come boh insomma è uno che ha interpretato bene anche il tuo le tue corde emotive sì le tue corde emotive ebbè insomma viaggio c'ha questo c'ha questa grande intuizione sensibilità no quindi riesce a immedesimarsi non scrive mai casualmente cioè evidentemente sì io lo saluto e do comunque un abbraccio sempre ringraziandolo di quello che ha fatto insomma in questo progetto 348 103 10 10 questo è il numero per i vostri sms da digitare rigorosamente da fermi durante una pausa del vostro viaggio da far digitare a qualcuno che viaggia insieme a voi se volete appunto testimoniarci le vostre sensazioni rispetto all'ascolto di questi brani che fanno parte appunto dell'errore il nuovo album di Loredana errore appunto c'è un gioco di parole un'assonanza importante e facile da comprendere hai la patente sì come guidi grazie a dio non mi hanno levato ancora oggi nessun punto dicono che guido un po' spericolata però secondo me sono sono loro che vanno troppo lenti quindi adesso ti facciamo qualche testa perché qui a raiser ok è un continuo a riottenere la patente con noi allora limite massimo in autostrada 120 130 da poco che hai la patente però no da quando ho 19 anni però anche la strada diventa un intuito soprattutto la notte quindi 130 è il limite massimo sai che c'è il tutor lo sai conosci il tutor è un modo per controllare a che velocità vanno le vetture la velocità media diciamo il modo in cui si è arricchita l'italia queste multe tutte queste ztl da quelle sono le no ma la cosa ancora più sconvolgente come a milano ci possono essere dei parchi dei parchimetri sì dei parcheggi a pagamento in zone che non corrispondono alla planimetria del della città non corrispondono al piano quindi sono dei parcheggi abusivi che vengono praticamente pagati e non solo e se tu sbagli o comunque sgravi di qualche minuto sgravi di qualche ora ti arriva pure la multa quindi io rimango veramente attonita a queste cose veramente cioè che si possano fare tutte le riforme che si possono fare però purtroppo alla fine di sostanza del quotidiano dice ci sono non c'è non c'è giustizia a quello che si vuole far rispettare quindi un altro pezzo da questo album fotto la poesia risa nella notte di reiso radio questa era fotto la poesia con loredana errore qualche chilometro ancora ma prima delle notizie di infomobilità con il cisse viaggiare informati disco con dieci pezzi e ce n'è uno che ascoltiamo immediatamente firmato da biaggio si ricantato oltre che da te anche da una certa loredana bertè assolutamente la grande il mito il culto loredana bertè come è andata in studio guarda è andato benissimo io ho avuto il la fortuna e l'onore di osservarla mentre mentre stava registrando diciamo le sue parti e posso dire comunque di aver visto un una grande artista che sapeva comunque stare al suo posto e che ancora dopo anni di esperienza si appellava appunto a biaggio per comunque seguire i consigli per seguire comunque quello che meglio avrebbe dato armonia al pezzo e inoltre ho visto fuori dalle cuffie fuori dalla cabina di registrazione ho visto una madre comunque amorevole una una donna con degli occhi di una profondità immensa immensa e io la ringrazio la ringrazio di cuore ancora prima ringrazio viaggio perché naturalmente tutto nasce da una catena di accadimenti però ringrazio veramente la buona sorte che è stata così generosa da regalarmi questi due questa era cattiva due loredana insieme l'abberté e l'errore per questo pezzo anche molto graffiante rock and roll come dici tu come si dice a roma mazza tu nasci a bucarest transiti per agrigento vivi intorno a milano parli romanesco vado a vivere anche un po a londra un po a bologna ricordo anche un posto che mi sta molto a cuore una piccola parentesi lampedusa che vabbè per il momento non sta vivendo delle ore molto tranquille quindi un saluto a tutti i lampedusani dall'ora e da un errore e sì perché tu lì è agrigento anche che la mia città insomma splendida fra l'altro tu lì sei stata insieme a baglioni per uscià sì sì ho avuto questo questa anche opportunità di poi ti dirò io ancora prima ad uscià cantavo a lampedusa ho fatto due stagioni in un in un locale quindi diciamo che ho avuto veramente la possibilità di apprezzare quello quello che sta che sta all'interno di un'isola questo punto la mia piccola casa che evidentemente la sicilia è una terra splendida agrigento il luogo che ti ha adottato fisicamente e anche lampedusa che appunto un posto dove sei tornata questa è la mia piccola casa con questo arriviamo all'appuntamento con le notizie di infomobilità restate con noi cinture allacciate una buona distanza da chi vi precede non oltre 130 chilometri e non pensate le cose brutte mentre state guidando che poi manca l'ossigeno al cervello